Ciao ragazzi, mia madre è uscita Ehm, mo faremo la mochingsboxing di questi occhiali di mia sorella, cosa ho detto? Vita, sanno, ovviamente, sta, mente Cosa? I tuoi venire? La nonna è tornata! Questa è una vendetta di quando io mi regalo i fratelli di amazzonese di cinesi Perché si, 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 si Non hanno sotto i miei vetri E' diventato i miei vetri E' diventato i miei vetri rosa Abbiamo uno spray insetti da per i telecomandi Che non funziona Abbiamo anche i saletti Saletti Ok, ragazzi, ciao